Siamo guidati per la prima volta in pista a una Porsche Carrera 4S, adesso ad aprile, sono campione italiano del Porsche Carrera Capitale e Sport Siamo guidati per la prima volta in pista a una Porsche Carrera 4S, adesso ad aprile, sono campione Meglio della figa, è un certo diverso Meglio della figa Questa va decisamente più da Porsche Meglio della figa 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 Meglio della figa